ed eccoci di nuovo con l'almanacco e con l'oroscopo di oggi è il 21 di luglio e san lorenzo da brindisi veniamo a compleanni un bravo attore un bravo comico alessandro bergonzoni 21 luglio 1958 e poi oggi è nato beppe grillo comico prima politico dopo fondatore del movimento 5 stelle è nato il 21 luglio 1948 il proverbio ci porta dritti dritti a quello che l'oroscopo del giorno chi è sazio non crede a chi è ingenuo ariete l'atmosfera intorno a voi continua ad essere festosa e deliziosamente elettrizzante poiché in questo periodo irradiate generosità ardire e buona disposizione d'animo anche il partner sarà contagiato stasera dalla vostra vitalità toro è alla vostra testarda caparbietà che dovete gran parte del vostro successo mettete quindi a tacere con determinazione chi si arroghi il diritto di vantarsi d'avervi aiutato dovete ringraziare solo voi stessi gemelli oggi le stelle vi consigliano di sollicare la vostra vanità personale trascorrendo il pomeriggio a fare shopping in città con tante divertenti compere e acquisti serata rilassante con chi amate cancro non prendere impegni ora è una regola aurea cui dovreste attenervi costantemente perché la stanchezza accumulata è tanta il fisico ha bisogno di relax prendeteve la calma leone la vostra attuale scarsa loquacità renderà spinosi e difficili i rapporti interpersonali e quelli con il partner che invece è in vena di allegri chiacchiere di intenso dialogo e di costruttivi scambi di idee vergine c'è una paroletta magica una paroletta che apre tutte le porte rende i visi intorno a voi sorridenti e vi circonda di positivi consensi sapete qual è questa paroletta magica si tratta di un semplice grazie ogni tanto sforzatevi di pronunciarla bilancia vi aspetta una giornata all'insegna del movimento del ritmo incalzante della velocità della possibilità di immediata comunicazione di pensieri sensazioni e sentimenti sarete quest'oggi estremamente comunicativi scorpione una persona che vi corteggia non perde occasioni di lodarvi vezzeggiarvi darvi ragione ed esternarvi la sua ammirazione vi dice che siete splendidi meravigliosi unici ma voi trovate l'intera situazione alquanto stucchevole mettetela a tacere sagittario giove sollecita negativamente il vostro orgoglio e senza sapere come potreste ritrovarvi a fare promesse un tantino azzardate impegnative oggi invece l'ideale sarebbe quello di tenere la bocca chiusa un capricorno vi si confà un proverbio della tradizione popolare chi si accontenta gode ultimamente siete diventati sempre più esigenti e a volte francamente incontentabili la qualcosa è la vera anticamera dell'infelicità acquario constatare che per il partner il vostro parere conta pochino potrebbe dar fuoco alle polveri della vostra scontentezza e dare via a una bella ipirotecnica litigata che spazierà però ogni nube dal vostro orizzonte affettivo pesci affari e amicizia oggi si mischiano poiché da un caro amico vi verrà una proposta vantaggiosa da un punto di vista finanziario potrebbe essere per alcuni un vero colpo di fortuna da non lasciarsi scappare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti